Un rientro a casa è anche emozionato perché proprio qui al Sole del Marmi nel 1977 furono consegnate per la prima volta le chiave della città ai bambini. Lo slogan era vietato l'ingresso agli adulti se non accompagnati da un bambino. Quindi ritornano i bambini, ritornano i valori, ritornano gli anziani, ritornano l'ecologia, ma soprattutto ritorna il successo di una manifestazione che ha fatto il giro del mondo. Perché poi è diventato Gioca Italia e Gioca Italia è andato oltreoceno, è andato in America, è andato in Australia, è andato in Europa. Ritortare Gioca Italia significa riportare qui Gioca Salerno e l'augurio nostro è che rimanga fino alla fine. Anche noi dovremmo seguire le regole, quindi non andremo in Villa Comunale ma abbiamo per un giorno intero il Teatro Agusteo. Quindi il 30 luglio ci sarà il Gioca Italia che è un premio dato all'eccellenza del mondo della cultura. Avremmo un Gioca Italia, un ragazzo che sta per arrivare, che è voluto fortemente a questa stampa, che ha appena fatto 3 milioni di visualizzazioni, è un disabile e ha fatto un bellissimo documentario sul bullismo, premio Rai Cinema. Ci sarà una grande presenza del CONI perché faremo un omaggio alle Olimpiadi del 1960 di Roma ma presenteremo una grande iniziativa nuova per Salerno. A me non resta che darvi appuntamento, allora a questo punto per quanto riguarda il giorno 30 alle ore 20 e 30 all'Arena del Mare. Precipitatevi perché questo è importante dirlo perché purtroppo i posti sono limitati, quindi prenotatevi, vi aspettiamo e grazie, grazie, grazie.